Musica Bella a tutti i folli e bentornati su DarkFoly Channel con un nuovo video sul canale Oggi mi trovo su serverplay.cubecraft.net ovviamente in più in descrizione E sono qui a portarvi un nuovo episodio dei Survival Games Però ragazzone l'episodio di oggi non sarà un episodio con la versione 1.8 ma siamo con la versione 1.10 Ragazzi è la prima volta che provi Survival Games con questa versione C'è la prima volta nel senso che vi porto un video E devo dire che facendo due partitozze prima sono riuscito pure a vincerne una Mi sono davvero divertito parecchio Perché a differenza della modalità normale Quella dove c'è la gente che spamma, chi spamma di più e si rompe i tendini vince Qui ragazzi le cose cambiano perché bisogna giocare un pochino più di astuzia E non bisogna soltanto spammare come un ritardato almeno questo dal mio punto di vista E buh, cercherò di provare insieme a voi E ovviamente fatemi sapere attraverso un pollicesto in su e attraverso un commentoso Se magari vorreste vedere altri episodi del Survival Games con la 1.10 Oppure volete vedere soltanto quelli con la 1.8 Comunque ragazzi inoltre siamo nella modalità in team Non perché volessi fare team con qualcuno in particolare Ma perché la modalità quella in solitario è assolutamente vuota Non so perché ma la gente è fissata a fare i Survival Games in team E quindi eccoci qui Mentre ragazzi si capisce se uno è del tuo team Perché sopra la testa c'è il nome verde e non il nome rosso come in questo caso E già sono morti i due nostri compagni di squadra e siamo rimasti insieme da Zabazza555 Nome molto interessante che va bene Ok Comunque allora innanzitutto dobbiamo cercare di fare un giro per la mappa alla ricerca di qualcosa di interessante Ovviamente non conoscendo il loot come cappero si chiama Ovvero le chest dove si trova la roba buona oppure il giro che bisogna fare per cercare qualcosa di interessante Dovevo girare così a caso alla ricerca di qualcosa Comunque inoltre in questa mappa se non sbaglio ci sono le ender chest che prende e ti danno oggetti migliori Non vorrei dire una cavolata ma dovrebbe essere così E questo ho provvisto che c'è un ender chest Sarà stata lootata? Sì è stata lootata Perfetto Comunque allora lì sotto già vedo uno che è messo davvero bene d'armatura Ha pure due cani What the fuck Non so ragazzi se quello sia un kit oppure lui che è così sgravo che è riuscito a prendere due cani E abbiamo trovato pure il fire aspect ok Però dobbiamo andarcene da qui Perché anche se abbiamo in fire aspect non possiamo reggere lo scontro contro uno come quello Soprattutto se riusciamo a incontrarci di nuovo con fazza bazza555 Magari qualcosa la potremmo riuscire a fare E ho trovato qui un altro scudo le cose a mangiare ci servono Quindi cerchiamo di raccoglierle tutte E prima di fare uno scontro più 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 Mio dio lì c'è un mega team Dobbiamo cercare di mangiare perché qui in questa versione Il cibo Oltre a finire velocemente però ti permette anche di curarti Velocissimamente Come se avessi la golden apple nella versione 1.8 2 contro 1 però non possiamo giocare al momento Non possiamo reggere lo scontro Per tutti il suo server non c'è il rifiore delle ceste Quindi quello che trovi trovi quello che non trovi non trovi E azzabazza è morto cavolo è stato slagliato dal general druif La cosa non va bene però cerchermelo di riuscire a comprare qualcosa lo stesso Almeno spero Comunque al momento abbiamo fatto solo una kill a quel nudetto Poveretto che era lì all'inizio E' stato più sfigato di me non trovare nulla E niente abbiamo ok Dobbiamo cominciare a carburare e a trovare roba Perché se siamo messi bene possiamo reggere lo scontro 1 contro 4 Ma dobbiamo essere davvero davvero messi bene Comunque devo usare questa spada come Per fireare E quando vedo che va a fuoco gli do colpi di spada di pietro Poi di switcho con quella Cioè devo riuscire ad alternarmi E soprattutto devo riuscire ad usare lo scudo Cosa che non so usare Però ci proverò Ok al momento siamo full armatura Quindi possiamo reggere lo scontro contro qualcuno Certo se sono in 2 full ferro no Sono 2 messi in later Molto probabilmente si Quindi adesso incominciamo a cercare qualche preda Anche perché siamo in tantissimi E presente il mio team è l'unico che è morto instant Ma perché? Perché capitano tutte a me? Eh lì sopra vedo uno Ok Che è messo anche lui full armor C'ha lo scudo però Ma non penso che possa ammazzarci E sti cadaveri buttati a terra Cavolo mi danno un fastidio della madonna Ok non devo fargli capire che c'è il faraspect Cioè vado così tranquillo con la spada di pietro Così lo vede che non ho un chanto Poi appena posso Vedo c'è pure il cane questo Che sta lutando Cavolo se ci arrivavo prima Potevo ammazzarlo Perché c'ha due cani? Perché tutti hanno due fucking cani? Vabbè due cani sciottano ragazzi Tolgono davvero tanta vita Ok Facciamo lottare sti due Sono in team? Ma perché? Perché eri da solo adesso? State trollando? State fucking trollando? Sì Abbiamo un full ferro che ci insegue Non mi dire che questo è un vicolo cieco Ok non è un vicolo cieco Sta mangiando quello Posso seminarli Posso seminarli Darkfall e run Tadam Sì vedo uno dietro Ma che cos'è sto posto ragazzi? Se è un vicolo cieco Madonna Non può essere Ci deve essere una via d'uscita Che cos'è sto posto? Però siamo riusciti a seminarli Almeno sta cosa va bene Sì Non c'è più nessuno dietro di noi Essendo fulmine vuol dire che la gente sta morendo Che bello La gente sta morendo Così almeno non avremo 28 team contro Avremo soltanto 76 E si duplicano Qui c'è uno Ok Questo qua è quello forse che stavo inseguendo prima E però si è fatto salvare il culo dal suo compagno E infatti ancora sta scappando verso quella direzione Sta lutando Sta lutando Io lo posso ammazzare a questo senza problemi Se magari non usasse le Enderpearl Vieni a lottare Dai Adesso siamo uno contro uno E non due contro uno Il pvp lo puoi fare Ok Allora L'abbiamo ammazzato Però ancora ci sono i suoi cani indemoniati Perché gli ho ammazzato il padrone Scusate cani Ma se volete diventare i miei Vi accetto Volete morirci E vabbè E possiamo farci Ok Abbiamo eliminato un altro Come siamo messi qua Power Power Torno uno Molto meglio Torno nei pantaloni ragazzi Se non sbaglio Che significa fulmine Però non so realmente Quale sia il suo effetto Chiedo il mio cosiddetto nei commenti Vi prego Perché non me lo ricordo E lì mi sta intervenendo A intercettare uno Anzi sono in due ragazzi Non è assolutamente uno Quindi Scappiamo Abbiamo pure l'enderpearl Quindi adesso Appena trovo un punto Dove posso usarlo Me ne scappo Dopo vado via Però aspettate Allora se quello è da solo Il cilotto Senza problemi Sentimmo no No sono in tre Sono in tre E c'è pure un full ferro Incentato Oddio Ragazzi Devo riuscire a scappare Da questi cippalippi Mi hanno tirato la freccia Io uso l'enderpearl Dimmi che l'ho tirata bene L'ho tirata De merda Ho perso tutti i cuori Ho perso tutti i cuori Cosa da mangiare Mele Sì sti come mi vengono a prendere male Ehi sono lì Sono lì Stanno arrivando Ehi sono in burrone Scappa dark folle Non posso riuscire a scappare Per tutta la partita Assolutamente Quelli sono di là Forse ragazzi Gli ho ammazzato Ammazzato l'amico Per oggi non so parlare E ce l'hanno con me No Stanno arrivando altri Allora Allora Avete due dietro di voi Perché inseguita a me Non vi piace fare gli scontri Della pari vero No Assolutamente Venite qui quando siete da soli Non quando siete in 28 No ragazzi Mi stanno insegnando Io non c'ho cosa da mangiare L'unica cosa che sono riuscito a prendere È Una cagata Che mi da pure fame Ok stanno lottando Sì finalmente Qualcuno I miei salvatori sono arrivati Là sopra ragazzi Ok Qua c'è il mega scontro Io mi aggiungo dopo No Stanno scappando questi Ma voi eravate i miei salvatori Non potete scappare così Ok Adesso inizia il pvp Il pvp Questi qua sono i miei salvatori Quindi non li attacco Ok Abbiamo incendiato questo L'abbiamo fucking aperto Perché da solo Questo l'hanno lasciato andare Non lo so Mi sta spammando frecce Come ho ritardato Ok c'è morto Abbiamo Perché Non so che cosa è successo Ragazzi È tipo Gli è arrivato un fulmino addosso Però adesso mi stanno Focussando in due Stanno focussando in due Devo riuscire a scappare Per curarmi Dietro di me però Aspetta Non c'è uno messo benissimo C'è Ha solo la cespita di ferro Incentata Ok Allora un'altra corsetta Mi mangio un'altra cosa E lo affronto Ok Oh no Anche lui c'è il fire aspect Mi sembrava troppo tranquillo Questo qua E mi pushava contro Senza armor Ma perché tutti mi insegono No ragazzi Ma che cosa c'ho La bandiera in testa Di attaccatemi Non so se l'avete visto Tutti mi insegono Abbiamo Siamo pieni di cagate Buttiamole Puffa Perché mi attaccate tu Non vi ho fatto nulla di male Oppure Francesca La canna da pesca Ma tanto io non la so usare Che dovremmo usare Anche l'arco ragazzi In qualche modo Ma dovremmo usarlo Usiamo la spada di ferro Ovviamente A posto della spada di pietra Oppure la Accetta No Ragazzi Teniamoci la spada Ci servono cose da mangiare Come vedete Stiamo consumando In quantità industriale Oddio Che partita Stiamo facendo Lì dietro Stanno arrivando in due E mi stanno inseguendo Io devo riuscire A far combattere Questi contro altri Proprio come ho fatto prima Ok Ma che cosa volete da me Me lo spiegate tutti Non sono VIP Neanche sto server Quindi perché mi dovete attaccare Quei tre secondo me Sono in team Stanno lottando Perché se stanno lottando Lo voglio aiutare Se stanno lottando Ok uno dei due C'è il fair aspect Ok Devo ammazzare General truth Dovrebbero essere low Tecnicamente Questi qua Ok Ammazzato Da qua spamma Perché spammi Non hai capito niente Del pvp vero No mi dispiace Mica Ok Ultimo colpo E puso questa Ok C'è molta male Enzi Secondo me la mia spada Con thorn Tira fulmini Non vorrei dire una cavolata È una spada Avete capito Abbiamo anche i pantaloni Con thorn Dovrebbero essere OP Power 1 6 spletti inutile Abbiamo un bel po' di cose Adesso tutta la roba La lavo Ok Buttiamo tutto Unbreaking 2 Non mi serve a niente La TNT qua salta instant Quindi è ottima Oh Siamo riusciti a vincere Uno contro due Uno mi ha scritto dark fall Ciao sono un tuo fan No poveretto È un morto Cioè è morto questo qua Non so se l'ho ammazzato io Però rip Adesso lo salutiamo Ciao Però Non voglio morirci Quindi facciamo una cosa veloce Ragazzi Sto tenendo alto L'umore della mia squadra No Sono uno contro tre ragazzi Sono uno Fucking contro tre E mo come faccio Protection Mi serve protezione adesso Tanta protection Allora Mi devo concentrare Uno contro tre Eppure la spada Distrutta Ma si Tu che dici Solo io posso essere Ah è uno di quelli Fammi Fammi vincere Fammi vincere Vediamo se riesce il mio piano Ragazzi Mi farà vincere Né ora né mai Dove sono tutti Anche se gli dico Facciamo team Lui non può teamchilare Su un pochino di squadra Non può ammazzarli dall'interno Quindi sono problemi Eh Dove sono loro? Uh sono di là Le capperini si sono messi bene Sono tutti full ferro Sono tutti full ferro Adesso viene ad attaccarmi Proviamo a interbollirli Ah no scusa scusa A te non ti devo attaccare Devo attaccare gli altri due Capperini mi stanno chiudendo Mi vogliono chiudere E io mi chiudo da solo Ok Devo risalire ragazzi le scale E attaccarli A frecciata da sopra Oh Mattia Ma perché mi attacchi? Mattia Siamo in team noi Oddio Ce l'ha con me questo qua Mattia Vediamo ragazzi Forse mi ha aiutato Gli ha buttato la lava addosso Non ho ben capito Oppure no Ok C'è qualcuno che mi sta facendo malissimo Mattia aiutami Mattia Fai qualcosa per me Aspetta Mattia mi ha tirato le frecce No no me l'ha tirato Ok Forse ragazzi Mi vuole aiutare veramente Non ha scritto in chat Però forse mi vuole aiutare Buona fortuna Dark Come? Non mi dire che mi attacchi adesso Mi incavolo Mattia non facciamo cavo Mattia non facciamo cavolate Ok Invece l'ha fatta Ha fatto la cavolata Di mettersi contro di me Però alla spada di diamante Porco gamberi Ho buttato anche la lava sotto i piedi Ok Povero Mattia L'ho bruciato in due Sono low tech niente questi Soprattutto Mattia Deve essere la mia prima preda Scusa Ti ho dovuto ammazzare Ragazzi ho ammazzato a due Ragazzi ho ammazzato a due Con l'armatura in tor What the fuck Non sto riuscendo a beccarlo Eh lezzo Tu mi hai attaccato per prima Non è colpa mia Ragazzi non mi devo far fregare Da questo Ok l'abbiamo bruciato Mi sei arrotta la spalla Fate abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto lo scontro Uno contro tre What the fuck Ce l'abbiamo fatta veramente Oh Mio Dio Quanto amo la versione 1.10 È stata una delle partite Più belle che abbiamo mai fatto Cioè mi sono divertito Un casino E sono stra felice Di riuscire a portare Una partita del genere Un mio dio Quindi niente ragazzoni Questo episodio è finito qui Vi invito a lasciare un casino di like Anche se ne dubbi Ne lasciate tanti Per questo episodio E poi ci becchiamo domani Con due nuovi video Ciao ciao ragazzi Sì